Ben ritrovati, benvenuti in Diario del Giorno. Torniamo ad occuparci di presunte moleste sessuali. Mi riferisco alla notizia che ci arriva dalla Spagna. Spagna, giornalista molestata in tv da un passante. L'uomo è stato arrestato per direttissima. Com'è sta notizia, direttore Pietro Ossenaldi? Come la vedi? Com'è, Andrea? Vedo che ti scappa da ridere, direttore. No, no, ma rido perché immagino che sia per violenza sessuale. Sì, sì, ma tu la pena la ritieni giusta, sbagliata, eccessiva, educativa. Lascio a te la patata bollente, direttore, visto che recentemente siamo stati crocifissi per alcune nostre parole. Naturalmente patata in senso vegetale. Rigorosamente bollita. E credo che bollita si possa dire, credo. Non lo so più, direttore. Non vorrei che qualche forza politica la usasse per far cadere il governo. Ah, bellissimo il bacino. Ti è piaciuto il bacino? Ma soprattutto, vedi, io mi stavo chiedendo, Andrea, ma perché noi uomini, no? Di una certa parte politica dobbiamo soppesare le parole, mentre le rom sulla metro fanno il loro comodo, impunite. Ci hai pensato questo? Una grande verità, direttore. Ma poi scusa, è davvero una notizia, una giornalista che magari è stata, ma involontariamente accarezzata. Chi lo sa, magari poverina si era appoggiata ad un muro, ma aveva della calce dietro, no? Sai la calce. Ma magari lui l'ha solo spolverata. Magari l'ha spolverata. A me mi sembrava, ti dico la verità, più una diatriba fra innamorati. O se vogliamo una performance, sembrava una performance di artisti di strada. Direttore, pure il ragazzo è stato arrestato. Perché no, sono le leggi spagnole, per carità. Le leggi spagnole, sì. Però quando vedi i finti monchi, che ti lavano il parabrezza al semafori, quelli non li arresta nessuno. I finti monchi no, teniamoci forti, direttore, perché verrà giù il mondo. Eh, facciamolo venire giù sto mondo. Ma se non vuoi essere palpata, dico, no? Ci sono dei giubbottoni che evitano di far vedere le curve, dei filponi molto lunghi da indossare. Ma c'è di tutto, guarda, perché i giacconi svasati... E le tuniche? Eh sì, le palandrane colorate. Che evitano di provocare con le forme... Assolutamente, sì, ma a parte che poi le soluzioni sarebbero tante, eh. Facciamone un esempio, direttore, dai, facciamolo. Per esempio, se sei una giornalista donna, se sei in collegamento, per esempio, non so, davanti al Duomo di Milano, vestirsi da apicultore... La palpata la scoraggi, eh. Immagine stupenda, direttore, stupenda. Io non ho mai visto qualcuno curare le armi in bichini. È normale che se poi lo fai, magari da ubriaca, è chiaro che poi un'ape che ti punge, la puoi trovare. Intendiamoci, tu, donna, hai tutto il diritto di fare la giornalista, ma puoi anche evitare di ostentarlo il fatto che sei donna. Ecco, dico questo, giornalista. Se vuoi fare la giornalista, un modo per non farsi palpare in mezzo alla strada, c'è. Accidenti se c'è. Lo sai, Andrea. Lo dici tu, direttore, o lo dico io? Ma sai che mi è venuto in mente che potremmo dirlo insieme? Ok, allora te la alzo, direttore. Alza, la vai! Cari colleghe donne, per non farvi palpeggiare in televisione, perché non fate 1, 2, 3? La radio! Ciao, ciao. Ciao, ciao.